Il tema è lunedì 4 maggio, la famosa fase 2, un'altra fase, la fase successiva in questo lungo percorso che ci vede tuttora impegnati nel contrasto e nel contenimento di questo virus che ovviamente ha preoccupato e continua a preoccupare tutti. La situazione complessiva è in fase di miglioramento e sapete che dal 4 maggio è possibile cambiare e integrare i nostri comportamenti con ulteriori possibilità. È stata la possibilità di riaprire dal 4 maggio a tante attività produttive che erano chiuse e una possibilità è stata anche a noi sindaci, ossia quella di riaprire gli spazi verdi dei nostri comuni. Ad Offida abbiamo deciso di farlo, quindi dal 4 maggio, dal 9 di 4 maggio, riapriremo alcuni spazi verdi presenti sul nostro territorio. rimarranno invece preclusi ed è importante, questo è previsto dal DPCM del nostro Presidente del Consiglio, le aree attrezzate per il gioco dei bambini e questa è una disposizione chiara su cui saremo rispondenti. Ovviamente è una disposizione che va nell'ottica della cautela di tutti, in primis dei più piccoli. Come di 4 maggio, riapriamo anche il civico cimitero che ormai è chiuso da due mesi, è un altro momento che abbiamo ritenuto di dover dare alla nostra collettività la possibilità di tornare a portare un fiore sulle tombe dei propri defunti. La fase 2 è più complicata, ho detto ai miei cittadini, della fase 1 perché in questo momento con il riavvio di queste possibilità, di queste attività che ci sono state date, quindi di passare qualche tempo all'aria aperta, a godere il sole, entra però in gioco una grande, forte senso di dovere e responsabilità individuale. La fase 2 non è un liberi tutti, il virus è ancora presente, siamo ancora soggetti a un rischio serio e il successo di questa fase 2 è quindi la capacità di ciascuno di noi di rispettare le regole, quindi innanzitutto l'ho consigliato ai miei concittadini di indossare le mascherine. Le mascherine sono praticamente obbligatorie quando si entrano dal 4 maggio in luoghi chiusi, ma è assolutamente consigliabile e io dico necessario indossarle anche nei percorsi individuali che faremo dal 4 maggio. È assolutamente necessario rispettare la distanza sociale, è assolutamente necessario evitare assembramenti. Dalla nostra capacità di ciascun italiano, quindi di ciascuno di noi, a cominciare da noi sindaci, nell'essere rispondenti a ciò, passa il successo e la possibilità di riavviare anche nelle prossime settimane ulteriori percorsi che ci aiuteranno ad uscire insieme da questa fase di stallo. Quindi responsabilità personale, attenzione alle norme, godiamoci ciò che possiamo finalmente in qualche maniera rigodere, ma dobbiamo farlo con grande senso di responsabilità.